Salve amici del Centrumetitaliano, maltempo in attenuazione sull'Italia, salvo residui e piogge su alcune regioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 16 ottobre. Residui e piogge al mattino sul Friuli, acquazzoni sparsi su Campania, Calabria e Sicilia, tempo stabile altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio piogge e locali temporali insistono su Campania, Calabria e Sicilia, rapido miglioramento altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serate notata residui e piogge tra Sicilia e Calabria, nubi sparse e schierite altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime in calo al centro nord e in aumento al sud, massime in generale diminuzione. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrumetitaliano. 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 Grazie a tutti.